Siamo al volley maschile, grande attesa per gli azzurri che dopo aver travolto la Germania nei quarti sfideranno in semifinale la Serbia. Maurizio Colantoni. Sì, è sempre fase dopo fase, però io credo che quando una squadra arriva a una finale a quattro, una semifinale, vuol dire che la merita. Cioè vuol dire che tecnicamente lo merita come squadra lo merita, quindi non è questione di illudersi o meno. Siamo arrivati lì, vuol dire che abbiamo i mezzi di potersi giocare le nostre chance. Piccoli, grandi passi. In poco tempo la nuova Italia si è concretizzata, sbarazzina e spietata. La nazionale del Neocitif è di Nando De Giorgi. Dopo sei anni è di nuovo in semifinale e ci sarà la Serbia, oro nel 2019. Credo che i ragazzi in campo stiano crescendo partita dopo partita, prendendo anche più consapevolezza, perché la qualità, l'abbiamo sempre detto, c'è. E questo è importante. Siamo contenti di esserci creati questa opportunità. Qual è la cosa che dici più spesso tuoi ragazzi? No, ma sai, loro hanno grande entusiasmo e grande voglia di fare. A volte bisogna solo fargli andare alla velocità giusta, perché chiaramente la voglia di fare al massimo bene sempre ce l'hanno e quindi a volte però ci sono gli avversari, ci sono alcune situazioni che vanno anche calcolate. Quindi ci sono dei momenti che bisogna andare alla velocità giusta, mentre loro tendono a spingere sempre, che è una qualità importante, non hanno paura, non hanno niente, si aiutano. Però devono anche imparare che in certi momenti si va alla velocità che il match a volte propone. Vi ricordo gli appuntamenti del volley in maschile, sabato 18 settembre Polonia-Slovenia ore 17.15, Rai Sport HD e poi Rai 2 ore 20.50 Italia-Serbia.